Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Roberto degli Alcolisti Anonimi che ci parlerà dell'evento Incontriamo Alcolisti Anonimi in Biblioteca che questa volta si terrà mercoledì 21 giugno presso la biblioteca Accursio. Buongiorno, allora in cosa consiste questo evento? Sì niente, praticamente presentiamo l'associazione Alcolisti Anonimi in Biblioteca quindi un incontro con la cittadinanza per riuscire ad appirci un attimo di più rispetto a delle chiusure che magari possono essere nei luoghi comuni. Insomma, anonimi ma non invisibili. Che tipo di libri vengono presentati alla biblioteca? Innanzitutto il grande libro di Alcolisti Anonimi che è il testo base scritto nel 1939 ed è il nostro punto di riferimento come testo Alcolisti Anonimi e poi il Vivere Sobri che è una linea guida e dei suggerimenti come diciamo noi per poter riuscire a stare nelle 24 ore ossia riuscire a stare lontano dal primo bicchiere in modo tale di poter cambiare la vita. E questi testi vengono presentati e poi sono a disposizione della cittadinanza? Sì esattamente così, questi testi vengono presentati e poi omaggiati alla biblioteca e stiamo facendo il giro di tutte le biblioteche dei vari municipi proprio per avere un incontro più ravvicinato con la cittadinanza non vengono presentati solo i libri, chiaramente viene presentata l'associazione e chiunque abbia domande da rivolgerci di qualunque tipo possano essere e cerchiamo di dare delle risposte inerenti ad Alcolisti Anonimi. E quindi perché è importante partecipare a questo evento? È importante partecipare a questo evento innanzitutto per conoscere una soluzione all'interno del proprio territorio di appartenenza, una soluzione a cosa? un problema che può essere non certo di chi partecipa, magari anche sì ma un problema che può essere trasversale anche di chi partecipa il vicino di casa, un parente, qualcun altro allora sapere che esista nel territorio di propria appartenenza un gruppo, due gruppi, gli Alcolisti Anonimi che possano rispondere è importante secondo me secondo noi quindi ricordiamo le coordinate di questo evento sì, adesso abbiamo la biblioteca in piazzale Accursio il 21 alle 18.30 saremo presenti per presentare appunto il libro e l'associazione quindi il 21 che è mercoledì 21 alle 18.30 alla biblioteca di piazzale Accursio noi siamo presenti Prima di salutarci ti chiedo se puoi mandare un messaggio ai nostri ascoltatori? Sì, innanzitutto un grazie di sentirci cioè in questo momento di starmi ad ascoltare e poi il grande messaggio che voglio dire è che è interessante riuscire a partecipare alle attività sociali nell'ambito del proprio territorio e anche quelle più, diciamo così, nascoste in maniera tale che a trasmettere il messaggio che è la cosa più importante per noi di tutto quanto cioè noi esistiamo per trasmettere il messaggio qual è il messaggio si può uscire dall'alto e questo è un grande messaggio Allora ti ringrazio molto Roberto di aver partecipato al nostro collegamento e ti auguro una buona giornata Grazie, una buona giornata a voi, gentilissimi Grazie. Grazie. Grazie.